Buona giornata Buona giornata Buona giornata A te che ti guardi allo specchio Ma sorridi se lui ti fa vecchio Buona giornata A chi soffre dentro una stanza Col coraggio di tanta speranza Con il cuore voglio augurare Buona giornata A chi soffre dentro una stanza Col coraggio di tanta speranza Con il cuore voglio augurare Buona giornata In questo letto non ci voglio più stare A fare pinta di voler continuare Ma non c'è verso di vederti uscire Neanche a tentare di volerlo capire Se tu sei uno che sa stare a suo posto Forse in un uomo è già un difetto di troppo Io non ti chiedo di aggrappar tu ogni gonna Mi basta solo che mi tratti da donna E canterò Finché la voce mi uscirà E griderò Finché questo cuore mio batterà Pensando all'uomo che mi parli d'amore D'amore Pensando all'uomo con la voglia nel cuore E canterò Sono certa che nessuno mi fermerà E griderò E griderò E un po' di forza mi resterà Pensando all'uomo che mi parli d'amore Io canterò E quante volte con i miei rinunciavo A mille cose non doverle sbagliare Ma tu sei uno che non riesci a vedere La differenza tra una donna e un bicchiere A questo punto dove siamo arrivati In fondo in fondo ormai ci siamo incontrati Non voglio aver vicino un uomo che sogno Mi basta solo che mi tratti da donna E canterò Finché la voce mi uscirà E griderò Finché questo cuore mio batterà Pensando all'uomo che mi parli d'amore D'amore Pensando all'uomo con la voglia nel cuore E canterò Son certa nessuno mi fermerà E griderò E griderò Finché un po' di forza mi resterà Pensando all'uomo che mi parli d'amore Io canterò Io canterò E canterò Io canterò Son certa nessuno mi fermerà E griderò E griderò Finché un po' di forza mi resterà Pensando all'uomo che mi parli d'amore D'amore Io canterò Sì Canterò Io canterò Petali di rose Petali di rose con la nostra Marina Benvenuta e bentornata Cara Marina Grazie Grazie Qua ci stiamo abituando male caro zio Perché lunedì l'estereo B Ieri Ramo Ieri Ramo Desiree Oggi la nostra Marina Domani l'aria veronese Venerdì facciamo digiuno Perché venerdì è digiuno C'erano giusti, perfetti Eh no abbiamo donne che venerdì Ah sì abbiamo donne che venerdì zio Scusami sono perso Chi abbiamo? Gli Epidaze Ah quindi abbiamo anche donne venerdì Bene 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 Vabbè settimana ricca mi ci picco Vabbè bene Benvenuta come stai intanto Tutto bene grazie Ti vedo ti vedo Bella solare Sì 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 Vediamo allo zio invece come stai Che è un po' Come si Costipato Costipato Ma è sabato Un po' meglio Siamo in fase di guarigione Speriamo 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 sì Buongiorno a tutti Buongiorno a Marina Buongiorno a lei Carlo Alberto Buongiorno a tutti quanti nuovi belli brutti Dispeggiuti E oggi vediamo cosa si dice 15 fino a sera Beh proprio sì È il mese giusto Sì il mese è quello giusto Anzi 16 oggi 16 Oggi 16 carazio San Macario San Macario oggi San Macario Le piccole e inutili spese Roszicano i soldi del mese È fangarema Eh sì Io beata Maria degli Angeli Il fuoco vuole sfrigolare Parente sta per arrivare Ecco vabbè non so se è una buona notizia Sembrerebbe Un po' ironica Vabbè ma Natale Sotto Natale invece Arrivano i parenti anche da lontano Che è una bella cosa Andiamo invece in plancia Se vuoi dire tu Ecco andiamo a vedere Chi è il capitano oggi Ecco se vuoi invitare Ecco vediamo Capitano vediamo Vediamo chi Vediamo chi Vediamo Vediamo un attimo Suona la sirena Ah capitano Riccardo Eccomi qua pronto sull'attenti Buongiorno Buongiorno a tutti quanti Buongiorno all'ospite Ecco Reducci dalla cena Ieri sera Di TVA e Telechiara Eh Com'è andata capitano È andata molto bene direi Molto bene Abbiamo alzato il gomito Abbiamo alzato il gomito Eh sì No Perché dopo dovevamo guidare la nave Quindi non potevamo Niente va bene Però hanno mangiato bene Si vede dalla pancia Ecco Eh sì Non solo ieri Però è stato invitato dal presidente E' vero Tutti a mettersi in riga Per l'anno prossimo Esatto Infatti abbiamo messo due remi nuovi Nella barca Bene 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 Va bene La nostra Alma che apre la trasmissione Ti saluta Grazie Ciao E allora parleremo un po' di cose Con la nostra Marina Perché siamo vicini Quindi un po' al debutto Dell'orchestra Certo certo Sto un po' Ecco Quindi ne parleremo La situazione arriva Ne parleremo Ne parleremo Intanto andiamo col primo passaggio Del paginone Caro zio Ricordo anzi Signora Riccardo Facciamo vedere il colmo Perché se no Veramente lo portiamo a Natale Vi ricordo che Lo avete praticamente Indovinato Avete indovinato Avete sbagliato Non posso dire Chi ma avete sbagliato Chi lo ha fatto Sono state più persone Allora non Non c'è il verbo Ecco Il verbo è un verbo all'infinito L'avverbio Che è praticamente parente di non L'articolo E il nome È una cosa abbastanza Molta Anzi direi molto semplice Vediamo chi ce la fa Ecco Aspettiamo che le vostre Telefonate I vostri sms Ricordo ancora Sono Stiamo arrivando Quasi zio Siamo veramente A tante richieste Del calendario Perciò sapete Che insomma Ne facciamo circa un migliaio Andiamo fino ad esaurimento Chi lo volesse Non perdete tempo Quindi mandate Un sms A questo numero Se lo avete già ricevuto L'anno scorso Basta il nome e il cognome Scrivete già ricevuto Oppure se siete Come posso dire Telespettatori E telespettatrici Che l'anno scorso Non l'hanno avuto O ci avete conosciuto Solo quest'anno Ci mandate A questo numero Il vostro nome e cognome Il numero della via Cioè il nome della via Il numero Codice avviamento postale Paese città Ecco Se non potete Proprio le persone Che non possono Perché non hanno pratica Chiamano lo zio In diretta E ci date Il nominativo Bene Ho detto tutto questo Riposiamoci Un attimo Stato grazie Allora andiamo a sentire Il primo facciato del paginone Zio con Con un brano a tradizione Con un brano a tradizione Prego Un brano a tradizione 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 Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 a tutti Se qualcuno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti